Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'organizzazione del concerto della notte di Capodanno in piazza Mendola a Salerno, l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Napoli torna sui suoi passi e fissa diverse regole per la serata. In particolare non ci saranno liste, prenotazioni o il numero chiuso. Intanto non c'è bisogno di nessuna prenotazione per recarsi ai ristoranti. Abbiamo chiesto con forza che venisse tolta questa impostazione che definiva piazza Mendola come zona rossa. Non esiste nessuna zona rossa, c'è piuttosto un luogo che dà sicurezza ai partecipanti. C'è da considerare un altro aspetto che abbiamo deciso di tenere il concerto nella piazza Mendola perché è un luogo dell'anima, un luogo del cuore. Qui si sono tenuti tutti i concerti importanti di Capodanno e quindi è stata nostra intenzione consolidare questa consuetudine che è riconosciuta da tutti i serenitani e dagli ospiti che affollano la nostra città. La piazza sarà naturalmente messa in sicurezza, nel senso che entreranno un numero importantissimo di persone, non quantifico quante, ma tante quante possibile che la piazza contenga in termini però naturalmente di sicurezza. Quindi grande disponibilità, grande possibilità dinamica di riempimento della piazza e quindi poi un bel concerto che ci radegrerà a tutti.